Ogni grande impresa è un viaggio verso il futuro. Ogni viaggio ha bisogno di una garanzia di un solido progetto. L'Italia con l'Europa promuove il progetto Garanzia Giovani. Stato, regioni, soggetti pubblici e privati insieme. Per offrire ai giovani tra i 15 e i 29 anni un'opportunità tra istruzione e formazione, lavoro e tirocinio, autoimprenditorialità, servizio civile. In Italia e all'estero. www.garanziagiovani.gov.it Un'impresa per il tuo futuro.